Sono disponibili i nuovi segnalatori da boccata Fishing Hack per tripode. Nuovi contrappesi in ottone pieno rivestito, per darti la massima precisione di taratura. Nuovo attacco per Starlight chimici o elettronici. Nuovo aggancio adattabile a tutti i tripodi in commercio. Montaggio semplice ed immediato. Rimuovi il tappo di protezione diurna, inserisci lo Starlight se peschi di notte. Svita il dado dedicato. Inserisci la barra filettata nel tripode. Fissa il dado e il gioco è fatto. Abbassa il filo dal secondo anello, arma il segnalatore e regola il contrappeso. Adesso non ti resta che aspettare che il segnalatore si abbassi o si alzi per avvertirti della mangiata. Acquistali sul sito www.fishinghack.it o contattaci su WhatsApp o Telegram. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.